Ciao, perché non giurare? Perché qualcosa magico è proprio no, vietato a giurare. Ma no, io penso che questa è questione dei fatti per non assumere un potere più grande che abbiamo. Perché quando giuriamo, per esempio, in questi tempi, per Dio, per qualcosa, per la vita, ma dico davvero, voglio andare oltre di questo che c'è esattamente, che qualcun altro può vedere. Voglio dare ancora più significanza alle mie parole, a questo che faccio, che davvero è visto e altro può vedere. E peraltro c'è ancora una trappola in questa parola. Questo altro significato anche di giurare, di affermare, che davvero ti prometto, faccio questo sicuramente. Cosa possiamo altro fare che fare questo che facciamo adesso, fare oggi primo passo, non dire ma in futuro sicuramente sarà diverso. Invece, se io non faccio primo passo verso questo che dà una promessa a questa che si cambia in futuro, quello non dice a nessuno niente. Quindi, forse facendo il riassunto di questo breve commento, potrei dire non accumulare più forza che hai, dare altra trasparenza in questo che fai e fare vedere che davvero vuoi ottenere qualcosa facendo vedere il primo passo.